A breve inizierà il suo impegno in Consiglio regionale, più di 5.300 le sue preferenze, i temi su cui si impegnerà di più quali sono? Sicuramente il tema di ridare energia alle attività produttive, dal commercio all'agricoltura, all'artigianato all'industria, per cercare di ridare energia e speranza agli imprenditori che lavorano nel nostro territorio, perché poi a caduta la ricchezza si diffonde a tutti i livelli e se uno dei problemi è l'occupazione bisogna partire dalle fondamenta, non si può partire. Qual è il momento secondo lei che stiamo vivendo? Quali sono i sentimenti che circolano tra gli imprenditori in questo momento? Sono sentimenti molto difficili da interpretare, ma c'è un grande sconforto perché soprattutto le ultime regole sono state date, credo che creino veramente dei problemi molto grandi alla nostra economia, con conseguente perdita di occupazione per decine e decine di migliaia di persone. C'è un problema di regole secondo lei, quindi di paletti che sono stati messi e che potrebbero creare ulteriori problemi all'economia? Sì, credo di sì, credo che le regole vadano messe e devono essere rigide, però credo che siano state messe forse nella maniera sbagliata. Sì, a tutti i livelli, se penso alla ristorazione, al mondo del catering e che creano delle conseguenze poi in ordine anche per altri settori, se penso al mondo del regalo e lo stesso mondo del gioiello e del bijou che comunque ricade molto nel mondo del regalo, credo che questa creerà delle conseguenze molto dannose. dannose.